Nome e cognome per contesia? Carlo Lanzinger. Lei è? Avvocato. Sì, gli ultimi dieci anni sono stati caratterizzati da un boom dell'outsourcing, delle esternalizzazioni, molto spesso a scapito dei trattamenti economico-normativi dei lavoratori. Da una parte il committente ha un grosso vantaggio nell'appalto, specialmente quelli cosiddetti labor intensive, cioè dove l'elemento prevalente è quello della mano d'opera. Ultimamente, anche a seguito di interventi normativi a livello di Unione Europea, ci sarebbero degli strumenti che possono essere anche applicati nel nostro contesto territoriale che impongono all'appaltatore di favorire le norme che tutelano maggiormente i lavoratori.